A Pala, Ottolini e a Tutte la Fide. Sono qui solo, ma normalmente lavoro e ci tengo, quando possiamo avere questi spazi di comunicazione, ad essere sempre... Io lavoro con una storica dell'arte di Venezia, Esther Brunette, insieme portiamo avanti il progetto Arteo. Il progetto doveva essere già disponibile, ma c'è stato un cambio al vertice dell'LDC, un testo che facciamo insieme, che è il nostro documento fondamentale, uscirà adesso a febbraio, forse si intitola Gustate. Vedete dove raccogliamo tutta la nostra esperienza e pensiero riguardo alla valorizzazione dell'arte, corrego brevemente, non all'educazione al bello, ma all'educazione alla vita, tu curi. Cioè non è solo una questione estetica, ma è una questione estetica che diventa una questione etica. Ecco, io sono anche un... mi dispiace contraddire il mio confratello, sono uno che vive volentieri i suoi prossimi 60 anni, ne ho 59, contento di quello che sto vivendo, ripeto, senza nostalgie, che va bene, gli acciacchi, un po' l'anca, tutti questi problemi qua, che è uno alla pancetta. Però sono convinto di una cosa, che i più grandi artisti non sono stati più grandi nella fase giovanile. E se voi andate a vedere la bellissima pietà di Michelangelo nella Basilica Vaticana, e poi avete modo di confrontarla con la pietà rondanini che questo uomo scolpisce ottantenne, beh, vi renderete conto del livello di vertice di bellezza di questa, ma vi potrete anche rendere conto di una storia, di una vita, di fede, di una maturità, che a 80 anni può ancora dire e dare qualcosa anche di più interessante per i giovani rispetto a quella giovanile. Cioè, se è vero che solo tra i 20 e i 30 anni diamo il meglio dal punto di vista artistico e dal punto di vista di questa sapienza, che è a diversi livelli, credo che dobbiamo riconoscere questo patrimonio straordinario. E ci auguriamo, noi vecchiotti, che, insomma, vi poter essere così creativi. Taglio molto quello che volevo condividere con voi e che nasce, guardate, da 20 anni di esperienza, di lavoro in ambito pastorale e anche accademico, di pensiero sulla valorizzazione dell'arte. Qui prendiamo solo la funzione educativa, ma io lavoro adesso sempre di più sul versante pastorale, perché abbiamo limitato la valorizzazione dell'arte all'aspetto catechistico e spesso strumentale. Usiamo l'arte per illustrare un concetto. Mentre c'è tutto un mondo, l'altro, ieri sul quotidiano della mia città, sull'Arena, c'era un articolo che riparte un corso di arte e terapia. Sapete quanto il mondo dell'Alzheimer, il mondo dell'autismo, trovano oggi riferimento in proposte di tipo, con la valorizzazione dell'arte, tipo straordinaria. Ecco, noi siamo quelli che, a fronte di un mondo pedagogico, accademico, sanitario, rischiamo di restare gli ultimi capaci di valorizzare un patrimonio che ci appartiene come tradizione della Chiesa. Un Vangelo che non è stato solo annunciato, celebrato, pensato, vissuto, ma è stato anche cantato, danzato, rappresentato, diventato scultura, chiesa, eccetera. Educare una persona significa, lo sapete meglio di me, educere, dare una persona a tirarsi fuori. Prendo questo prigione di Michelangelo. Ciascuno di noi è a se stesso materia, il blocco di marmo, è a se stesso progetto più o meno consapevole, dallo stesso blocco si può tirare fuori una vasca da bagno, oppure un prigione di Michelangelo, con tutto rispetto alla vasca da bagno, mi intendo. E ciascuno di noi è a se stesso materia, il progetto è anche scultore. Decidere, che viene dal latino tagliare, decisione dopo decisione noi scolpiamo noi stessi. Che cos'è la cultura, come dice la Costituzione all'articolo 9 in questo senso? È il processo, il mezzo, il bene privilegiato che va pensato in funzione di questo compito educativo e formativo della persona. Mi sono dimenticato di dichiarare una cosa all'inizio. Se c'è qualcuno di voi di Milano, io devo molto di questa riflessione saccheggiata da un intervento di Maria Luisa Gatti Perer, che più di vent'anni fa aveva, e mi sono trovato proprio con lei a ragionare di queste cose anche all'organizzazione in ambito pastorale, e mi aveva detto, sì sì Don Antonio, prendi pure, vai e fai con questa cosa che sono contento che venga anche divulgata. Era in un testo di cui non mi ricordo il titolo adesso. In questo senso parliamo dell'importanza della tutela dei beni artistici e culturali. Cioè non solo per conservare, come si mette una cosa in freezer, ma proprio per la valorizzazione, la custodia, la valorizzazione in vista di cose, in vista della formazione della persona. Che non è solo un problema culturale di conoscenze o più cultura, nel senso so più cose, quindi anche la storia, so cos'è il romanico, no, no. E' proprio in ordine la ripresa di radici, di confrontarmi, e vi dirò alcuni aspetti adesso, con una creatività che ha a che fare, prima ancora che col mio fare, con il mio vedere, con il mio pormi di fronte alla realtà, con un modo nuovo di vedere. Oggi noi corriamo il rischio di perdere proprio questo rapporto storico e vitale, per questo dinamico, tra persona e beni artistici e culturali. Oggi la maggiore attenzione è legata ai circuiti turistici, quello che dal punto di vista nutritivo si chiama fast food, noi rischiamo di farlo diventare quel fast look, e tutti abbiamo ricordo di terribili gite scolastiche del liceo, quando ci portavano agli uffizi a vedere 3.000 opere, quando uno esce non ci metterà mai più piede in un museo. Viceversa, abbiamo tutti, mi auguro anche voi, ricordi, di qualche guida che rinunciando a qualche nome, qualche data, ci ha appassionato perché ci ha trasmesso qualcosa che ha toccato la nostra vita, la nostra esperienza, qualcosa che ci ha trasmesso non solo un senso, ma anche un gusto di stare al mondo, di pormi di fronte alla vita, alla morte, ciò che l'arte ha saputo evocare e rappresentare. Si tratta allora di provare a rovesciare la relazione tra persone e opere, perché fin da piccoli si impari non a girarvi le spalle per fare un selfie, è interessante quello che dicevi prima, questo discorso fotografico, lo stupore, la memoria, oggi dicevo alla Paola Marini, direttrice, già direttrice dell'Accademia di Venezia, il quadro più visto al mondo, sapete qual è il quadro più visto al mondo? E voi direte, qual è il quadro più visto al mondo? Peccato, perché la Gioconda viene vista così, e il quadro più visto al mondo sono le nozze di cana del veronese che sono di fronte alla Gioconda, che per farsi i selfie, la Gioconda quasi non si vede, ma per farsi i selfie tutti vedono le nozze di cana, che poi lo guardi in un'altra cosa, ma comunque, ecco, per dire, imparare a riscoprire una modalità diversa di porsi di fronte ai beni culturali, per imparare a fruirne. E in questo senso noi italiani, guardate, io ho studiato a Parigi per anni, sapete che i francesi non eccellono per la virtù dell'umiltà. Però se c'è una cosa in cui hanno un po' di complesso di inferiorità nei nostri confronti, pure loro hanno un patrimonio straordinario, è questo, noi siamo nel mondo non solo pizza, maffia, spaghetti, siamo questi nel mondo. Quando è uscito l'euro, io ero là che studiavo, ho portato su un sacco di nostri euro. sapete, l'euro francese ha la tetto della Repubblica. Io se avessi voluto speculare, guadagnarci, facevo un sacco di soldi negli scambi, perché i nostri euro, poi si sono messi anche altri paesi pian piano, ma i nostri euro sono questi, questi siamo noi nel mondo. Questa è la nostra carta d'identità. E nella misura in cui riabitiamo questa ricchezza e questa bellezza, siamo italiani, nel senso non nazionalista del termine, come dirò fra un attimo. Ricordo qualche anno fa a Roma, qui a Quirinale, un dialogo con uno degli studenti del liceo di Muti, musicista, di Enzo Piano, architetto, c'era ancora Umberto Eco, che dicevano a questi ragazzi, voi non vi rendete neanche conto di che vantaggio è essere italiani, vivendo in un paesaggio artistico come il nostro, riguardo di possibilità di elaborazione di pensiero, di creatività, di genialità. È questo che noi siamo chiamati anche come Chiesa e come nostri istituti, che hanno questa funzione educativa in particolare, a riscoprire in modo specifico. Io sono chiamato a destra e a sinistra, soprattutto per gli insegnanti in religione, ma spesso i nostri insegnanti ce lo dicono. Io so leggere un testo letterario, gli insegnanti in religione dicono, so leggere un testo biblico per l'Istituto di Scienze Religiose, ai trovo un libro pieno di documento o arte e nessuno mi ha mai insegnato a valorizzare questo patrimonio. Se non, ripeto, come illustrazione di un concetto da spiegare, che è la cosa peggiore, perché non si va nella cappella a Sistina cominciando a spiegare, o si ascolta il requiem di Moza, spiega, no, ascoltalo, gustalo, poi, chiaro, lo capiamo. Il triplice compito educativo affidato a noi, allora, in questo senso qua, è di suscitare una responsabilità che passa necessariamente attraverso questo triplice compito. Conoscere, far apprezzare, far affezionare. Solo nella misura in cui noi, noi per primi, noi, adulti, educatori, noi chiamiamo responsabilità pastorale a diversi livelli, è tristissimo vivere a Verona e sentire il turista tedesco che arriva in Piazza Bra e chiede al veronese, scusi, la chiesa della Santissima Trinità. E il veronese medio che risponde, boh, noi, arriva il turista danese che se non c'è il conoscere, non c'è neanche l'apprezzare, se non c'è l'apprezzare, non c'è la possibilità di affezionarsi, e se non c'è questo, non susciterà mai, si susciterà mai la responsabilità verso questi beni che sono di tutti e per tutti e per i quali va favorito un apporto interdisciplinare che ci permette di esercitare un prezioso servizio di tipo culturale, cioè rendere una persona attenta e critica, capace di vedere un adulto alla fine di un percorso che avevamo fatto sui Vangeli dell'infanzia nell'arte, mi ha detto, ero un funzionario di banca, mi ha detto Antonio vorrei ringraziare il gruppo perché mi sono accorto, tra virgolette, che adesso guardo in modo nuovo mia moglie e i miei figli. E io mi sono detto, quando vedrete questi segni sappiate che la fine del mondo è vicina, cioè quando uno che lavora in banca e che ha sempre in mano sotto carte, conti, numeri, attraverso un percorso di bellezza mi dice che su occhio esercitato perché lì c'era tutto il metodo, guarda in modo nuovo i suoi figli, capite che è questo il servizio che siamo chiamati a poter esercitare e questo è il servizio che l'arte può fare di quando si dice Dostoevsky l'arte, la bellezza salverà il mondo. Così, quello che accade a metà tra il mio occhio e la bellezza è che divento capace di vedere bellezza e la bellezza mi rende l'occhio capace di vedere bellezza. Ne parlava già Maria Montessori, ma ecco, in questo senso vedete, abituarci a vedere sensi, sentire emozioni e comprendere, pensare che è molto al di là, anche con un metodo di cui dirò magari una parolina, questo è ciò che di più evangelico possiamo fare, prima che insegnare dottrine. È la differenza che il Vangelo di Matteo al capitolo 25 ci sarà al nostro giudizio universale. Ho avuto fame, mi hai dato da mangiare, non mi hai dato da mangiare. Ma quando? Non mi ero neanche accorto. Che è il dramma del ricco e pulone, poverino. Se fosse venuto a confessarsi da me a Verona mi avrebbe detto, lo dico in veronese, a padre, mino oro, ba, mino copà. Cosa faceva? Mangiava un po' di più del solito, si vestiva un po' di lusso. Ma è il grave, è che non si è neanche accorto che aveva Lazzaro alla porta. Che invece ciò che fa il buon samaritano, rispetto ai primi due, vide passo oltre, vide passo oltre, vide, ed ebbe compassione. Questo è l'occhio che è capace di. Allora noi abbiamo la grande chance in mano di poter valorizzare questo enorme patrimonio di bellezza prima ancora che per motivi religiosi e per questa capacità di aprire, riaprire un nuovo sguardo capace di vedere bellezza. Allora viene fuori San Francesco che contempla la Tura, allora viene fuori San Francesco che incontra il sultano senza armi e tutto questo è ciò che può rinnovare un certo modo di stare al mondo. Pensate all'apprendimento del senso dello spazio. Noi oggi siamo abituati a ragionare in termini di spazio in termini di metri quadri, metri cubi di valore commerciale. Interessante questo quando hai ragazzi oh profe cosa costa questo qua, no? Pensate invece io che sono veneto per esempio dietro a una struttura di questo genere qua ma la prima cosa è da domandarci quanto costa, quanto vale o che idea di Stato c'è sotto. Cosa vuol dire che questo è diventato il simbolo di una Repubblica che per secoli ha bilanciato magistrature contro magistrature equilibrio di poteri e forse questo palazzo avrebbe tante cose da dirci soprattutto per l'oggi. Queste pietre qui quando vado a Firenze porto la gente sulla cupola rendersi conto che quella lì non è stata fatta da Brunelleschi o dai pochi è stata fatta da una città intera chi con un sasso chi con le uova per poter mantenere gli operai del cantiere queste pietre meritano di essere ascoltate e non distrattamente o di corsa devono poterci parlare e dirci di quei tempi in cui gli uomini sono riusciti a sentirsi comunità attraverso dei simboli certo io non sono nostalgico della teocrazia però vorrà dire qualcosa se a Parigi ci sono dei quartieri costruiti invece che intorno a una chiesa intorno a un centro commerciale c'è un'idea di uomo di tempo di spazio completamente diverso allora credo che imparare a riascoltare ripeto non distrattamente o di corsa queste cose possa aprirci a un senso di trascendenza che è quell'oltre qui lo dico tramite la straordinaria tomba di Carlo Scarpa dei condizi prima visitando un monumento così non ci si può fermare ad analizzare solo gli aspetti tecnico formali valore di materiali misure di volumi così come si impara che il valore dell'uomo non è in funzione di quanto è alto quanto pesa quanti voti ha preso qual è il suo conto in banca se una mamma mi parlasse di suo figlio solo in questi termini qua mi farebbe paura ed imparare invece a coltivare una capacità di approccio se volete dei riferimenti se voi leggete i pilastri della terra di Ken Follett o il Narciso e Boccadoro di Ermanesse lì sono riassunti anche questi modi di stare al mondo diversi perché perché noi disponiamo di opere che sono scrigni di vita documenti preziosi di umanità mediatrici di incontri cosa vorrebbe dire studiare Roma senza vedere i monumenti o studiare la Grecia paradossalmente quando tre anni fa c'è stata la crisi economica in Grecia noi vedevamo sempre al telegiornale questo monumento qua più del Parlamento perché questi sono simboli sono sintesi sono rielaborazioni di un concetto di un'idea di un pensiero di uomo questo e ve lo dico con un esempio che mi sta molto a cuore permette di favorire il recupero delle radici di una società in vista della sua autocomprensione del presente questa è la Basilica di San Marco che è diventata cattedrale solo nell'Ottocento dopo che è stata spostata da San Pietro in Castello ma ha la funzione di chiesa simbolo della venezianità parlate con un Veneto la nostra città Verona fedele non è perché Verona cattolica Verona fedele è perché Venezia ha dato il titolo di fedele alla nostra Verona che poi questo sia il titolo del nostro settimanale diocesano o un'altra cosa ma la fedeltà è quella che abbiamo avuto a Venezia e orgogliosi di esserlo questo è un nostro simbolo però io ho studiato a Parigi per anni e mi sono accorto che contemporaneamente a San Marco a Parigi veniva edificata un'altra cattedrale allora se io recupero queste radici qua posso rendermi conto di come di là delle Alpi la stessa funzione di un edificio cattedrale che deve essere il luogo di riferimento di un'intera comunità si esprime in modo totalmente diverso e allora posso scoprirne analogie differenze dialogare fino ad arrivare a rendermi conto che questo mi può permettere di dialogare di aprirmi addirittura con mondi diversi considerati lontani e nemici forse la moschea di San Marcanda assomiglia di più a San Marco che Notre Dame allora qualcuno potrebbe venire la tentazione di andare a San Marco e a buttarla giù perché forse è troppo simile a questo tipo di orizzonti di mondi ma pensate che cosa mi permette di fare un monumento di questo genere qua in una capacità di dialogo di apertura di confronto invece di generare conflitti o scontri capaci di incontro per fortuna oggi assistiamo a una valorizzazione rinnovata questi spazi per il patrimonio culturale si aumentano partecipazione a mostre iniziative culturali di tutti i tipi invitiamo artisti a dialogare durante un conveo cosa che dieci anni fa sarebbe stato considerato stupido assurdo o distraente c'è una sempre maggior valorizzazione dell'arte e questo ci permette di recuperare diceva il cardinale Martini nei suoi discorsi agli artisti del teatro della scala quando voi offriste anche solo dei momenti di respiro di riposo e di pace voi avete fatto un gran servizio culturale umano che noi riconosciamo anche come evangelico l'esempio più classico è quello del raccontino dei tre operai della cattedrale che credo fosse conosciato questa miniatura mi dà proprio la possibilità si narra di questo cavaliere che si avvicina alla piazza centrale di questa città e ci sono questi operai che stanno spaccando pietre si avvicina al primo gli dice cosa fai questo qua con tono duro senza alzare gli occhi gli dice non vedi sto spaccando pietre il cavaliere si avvicina al secondo a qualche metodo lui faceva la stessa cosa gli dice tu cosa fai questo si alza lo guarda gli dice mi guadagno da vivere per me e per la mia famiglia faceva la stessa cosa si avvicina al terzo a qualche metodo gli dice tu cosa fai questo qua fiero si alza in piedi gli dice non vedi sto costruendo una cattedrale tutti i tre facevano la stessa cosa ed è una cosa normale degna spaccare pietre degna quando prendo coscienza che questo è il lavoro che mi permette di sostenermi ma è veramente umana quando diventa capace di questa meraviglia di questa contemplazione noi vorremmo imparare a ridare voce significato alle opere d'arte per questo io abito a verona che confina con il trentino alto adige la provincia di bozzano su tirolo anche per ragioni se volete una minoranza però la valorizzazione del patrimonio che sanno insegnarci loro tutti i bambini di tutte le classi di tutti i paesi passano per casteltirolo lì c'è il portale ogni chiesetta che abbia un minico minimo viene segnalata con frecce allora voglio dire probabilmente qui c'è qualcosa di importante su cui investire e ripeto chi ha compiti penso a noi preti penso alla funzione educativa che avete voi chi ha responsabilità sociale politico non può non può tascurare o considerare un optional beh insomma se c'è tempo se si può perché perché ogni volta che l'uomo ha amato che è nato che è morto che ha sofferto e l'ha espresso tramite la bellezza ci ha dato una parola io conosco percorsi terapeutici in cui l'utilizzo dell'urlo di munch che ha più di cento anni vero rispetto a temi come la crisi di panico funziona e ha una potenza specchio finestra specchio finestra si intende specchio perché rimanda a qualcosa di me e finestra perché mi fa arrivare qualcos'altro di oltre da me ecco credo che in questo senso qua possa toccarci non si può toccare senza essere toccati Benedetto XVI parlava della ferita cosa ti colpisce quando diciamo davanti in modo straordinariamente delicato e importante questo comporta come vi dicevo prima l'imparare a educare alla visione però educare alla visione a partire dal dato sensoriale cosa vedo alla capacità di dar voce alle emozioni cosa provo alla capacità alla responsabilità data al pensiero cosa posso capire comprendere per chiederci alla fine e cosa lascia per la mia vita si passa dagli occhi vedere i sensi l'udito nel caso della musica chiaro parlo di altri figurativi si passa al cuore alle emozioni per arrivare alla testa e per aggiungere alle mani nessuna etica senza un'estetica nel senso più profondo temi non come la marchesa di pompadur che parlava di arte con tutto il rispetto poverina della marchesa di pompadur che parlava di arte al tempo della corte di luigi quindicesimo no 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 qui c'è qualcosa credetemi ve lo dice uno che da vent'anni lavora con disabili carcere bambini adulti percorsi più diversi con gli immigrati richiedenti asilo ci siamo chiesti come valorizzare anche con loro questo patrimonio esperienze straordinarie di cui sono grato perché mi hanno dato tantissimo oggi noi viviamo siamo la prima generazione che vive un colossale inquinamento di immagini dove non siamo più educati a fermarci su stare a renderci critici adesso scusate faccio un esempio di una pubblicità che riguarda ciò che diceva prima giorno dopo giorno gli anni non passano ho preso la pubblicità di qualche anno fa proprio per non toccare questa è una fake news perché giorno dopo giorno gli anni passano cosa c'è dietro il discorso che faceva lui pensate cosa veicola questa immagine rispetto alla rappresentazione dell'adulto il dover fare il finto adolescente fino a 80 anni cioè noi ci scandalizziamo solo quando toccano la madonna o quando ci sono delle immagini pornografiche ma non dovremmo educarci ed educare a diventare critici rispetto a tutto ciò che c'è dietro a questa serie ripeto una pubblicità di questo genere meriterebbe una lezione nel confronto con che tipo di rappresentazione dell'adulto del giovane eccetera eccetera ed ecco che educare la lettura critica delle immagini è un compito per favorire il recupero di uno sguardo sano che può partire fin dai più piccoli dai piccolissimi si può per esempio fare esercizio di distinzione di immagini faccio un esempio questo è la copertina di un libro dove ci sono diverse immagini rappresentazioni dei volti di Gesù per esempio si può cominciare a chiedere ai bambini di indicare tra questi volti qual è quello che ti piace di più pensate i bambini cominciano a percepire la varietà suscitando la meraviglia scusa che facevamo prima la facoltà di distinguere imparando anche a dare un nome specifico questo quest'altro stato che è contro la logica del prodotto fatto in serie il passaggio successivo sarà dal dire quale mi piace di più perché mi piace di più allora un bambino comincerà a capire che non è stupida Giulia o furbo Francesco perché ha scelto la stessa cosa mia comincerà ad ascoltare a elaborare criteri diversi magari a vedere anche con occhio diverso ciò che lui ha visto solo in un modo e questi sono passaggi molto importanti nell'elaborazione di uno spirito critico e il terzo passaggio sarà quello di un approfondimento critico certo con gli strumenti adatti ad ogni età per passare dal cosa vedo al cosa sento anche alla capacità di capire passo davanti all'opera ad andare dietro ad andare dentro al soggetto e qui avrò bisogno degli strumenti adeguati di approfondimento per arrivare a chiederci sì ma è tutto questo cosa ha da dire e da dare alla mia vita ripeto l'esempio di prima se al centro di Siena invece della cattedrale ci fosse un supermercato sarebbe la stessa cosa infine educare all'arte della contemplazione che è il passare ripeto dal vedere e sentire alla capacità di offrire strumenti di approfondimento alla possibilità di riprendere significati per la vita al momento così che si apre alla contemplazione cosa che ci manca sempre di più quanto ho due tre minutini sì allora concludo concludo dicendo in questo senso guardate che l'arte non è mai stata un esercizio futile e ozioso perché noi abbiamo cominciato a dire la nostra umanità quando 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 diversamente dal mammut che non seppelliva il mammuto dall'osso delle caverne che non seppelliva dall'osso delle caverne abbiamo cominciato a trovare degli umani degli esseri viventi che seppelliscono il loro simile con una perlina con un fiore con un vasetto l'arte è stata la reliquia prima della nostra umanità quando parlavi prima di tatuaggi gli antropologi ci dicono che la prima forma di arte probabilmente è stata la body art il tatuaggio e la danza no ecco noi ci ricongiungiamo molto prima della scrittura con ciò che ha specificato la nostra umanità salto questi passaggi per andare al piccolo riassunto quando parliamo di opere ispirate no e concludo con l'indice perché allora è importante dedicarsi a questa cura della valizzazione del patrimonio di bellezza e io ripeto mi limito solo all'arte figurativa perché l'arte parla di me a me stesso perché mi comunica valori significati in vita pensate quando nel romanico siamo passati a elaborare il tempo non con i simboli zodiacali ma con i mesi con il lavoro questo è il concetto della responsabilità della santificazione del lavoro si resta ancora cancro gemelli ma la vita e la storia sono in mano mia che devo falciare che devo vendemmiare che devo seminare ancora mi fa respirare la trascendenza dello spirito umano perché ci può essere un modo di guardare anche la corporeità questa immagine è il contrario della pornografia lavoriamo con adolescenti su imparare a guardare la nudità loro che sono inondati di pornografia è una modalità diversa che è questa ma non per fare i romantici capite semplicemente per passare al livello del spacco pietre a dire sto costruendo la cattedrale perché mi permette di ricollegarmi con le mie radici culturali e riceverne ancora l'infa vitale certi posti qui c'è un santo che è patrono d'Italia oltre alla sua bellezza perché diventa una pedagogia di libertà sempre profetica e rivoluzionaria pensate quante opere hanno testimoniato il di più dell'uomo ma qualsiasi opera anche il cesto di frutta di Caravaggio perché noi abbiamo cesto di frutta in tutte le case lui l'ha visto ce l'ha posto sotto gli occhi anche con quei significati sappiamo la caducità e ce ne rende capaci di gustarlo di apprezzarlo certo che mi serve per mangiare però non solo può aprirmi un pensiero creativo corporeo le ultime due slide facendomi riappropare di intuizioni geniali del passato io vengo dal Veneto dove ci sono le ville venete guardate che le ville venete non sono le ville resort sono l'investimento del patriziato Veneto quando è stata scoperta l'America intuendo che i traffici si sarebbero spostati di là l'investimento sulla terraferma che ha originato queste fattorie belle che si raggiungevano da Canal Grande con tutta la rete di canali e noi dobbiamo la nostra piccola impresa familiare veneta alla rappresentazione per dire che grandi artisti come Palladi o altri ne hanno saputo fare anche tramite questo patrimonio che non è ripeto la villetta del personaggio A, B politico può educare in me un vedere non solo sul piano estetico e formale ma anche su quello morale guardate noi veneti abbiamo patrimonio pensate San Marco che salva il Saracino Naufrago c'è un dipinto di San Marco che salva il Saracino Naufrago io vorrei metterlo vicino a qualche altra immagine così e infine addirittura può diventare il sacramento del mistero perché non dimentichiamo che noi cristiani abbiamo generato un patrimonio artistico straordinario per dire la fede per celebrarla e poi anche per insegnarla ma soprattutto perché questo ci doni un modo diverso di guardare la realtà perché è il primo modo di cambiare il modo di pensare la realtà ed è il primo modo di cambiare il modo di agire evangelico grazie della vostra attenzione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti